Io di scritto non ho mai visto nulla e dopodiché si è un po' rimpallata questa opportunità di farlo a Varese, di farlo a Comora, è intervenuto anche a Milano, insomma si era tanto discusso e dopodiché si è fatto i conti senza l'oste, se effettivamente l'oste, cioè la dotazione finanziaria non verrà confermata come qualche anticipazione invece da un punto di vista governativo era arrivata. Con queste parole è intervenuto nella delicata questione che riguarda l'assenza di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la realizzazione del Centro Federale degli Sport del Ghiaccio il comasco Alessandro Fermi, assessore regionale a Università Ricerca e Innovazione. Io qualche segnale l'avevo avuto rispetto alla non certezza, questa era un'ipotesi insomma, quella che potesse essere messi dei soldi per il Centro Federale degli Ghiaccio, ipotesi che pare essere in qualche modo tramontata, da cui era nata un po' questa diatriba un po' campanilistica tra Como e Varese, da comasco ovviamente ho tifato e continuo a tifare ovviamente per Como. I fondi messi in paleo dal PNRR non ci sono, se le risorse non ci sono più non ci sono mai stata, al momento è difficile dirlo, di fatto però non sono previsti finanziamenti per la realizzazione del Palazzetto degli Sport del Ghiaccio. Nei mesi scorsi a candidarsi per ottenere il bottino da 26 milioni di euro erano state Como e Varese, in ultimo anche Milano, nella battaglia però nessuno l'ha spuntata per l'assenza di risorse. Sulla DIA finanziamenti per il Centro Federale del Ghiaccio è intervenuto anche il PD Comasco, con una dura nota contro l'amministrazione comunale. Ad agosto scorso avevamo reso pubblica la nostra preoccupazione per la copertura finanziaria destinata alla struttura sportiva, la luce dei tagli che il governo aveva effettuata alle risorse del PNRR all'epoca però il sindaco Alessandro Rapinese ci aveva accusati di fare comunella con il comune di Varese e di essere intenzionati solamente a mettere i bastoni tra le ruote all'amministrazione comasca, dichiarano i consiglieri comunali del PD Insieme al gruppo cittadino. La disponibilità e l'impegno non sono però bastati a rimetterci. Purtroppo sono sempre i comuni come il nostro che dovrà dire addio, come avevamo intuito già cinque mesi fa, al finanziamento per la realizzazione dell'opera.